Un'equazione di secondo grado in forma normale si presenta nel modo che vediamo, scritto qui. Abbiamo tre termini, un termine che contiene la x alla seconda, un altro termine che contiene la x di grado 1 e dopodiché c'è un termine, denominato termine noto, che non contiene alcuna incognita. Di questi tre termini l'unico che è obbligatorio è il primo. A è bisogno che sia diverso da zero. Perché? Perché se A fosse uguale a zero allora questo termine sparirebbe e l'equazione anziché essere di secondo grado diventerebbe di primo grado e quindi non sarebbe più la situazione che stiamo studiando. Un'altra cosa riferita al grado è da dire, perché il grado è molto importante, perché questo ci dà un'indicazione di quante siano le soluzioni che noi potremo trovare. Non dico che sia obbligatorio trovarne due, ma fino al massimo di due. Quindi il grado di un'equazione ci informa su qual è il numero massimo di possibili soluzioni che potremo trovare. In via generica si indica sempre A, B, C, i coefficienti dei tre termini, ma A, B, C non sono altro che dei numeri. Ad esempio, 3x alla seconda meno 2x meno 1 significa che il coefficiente A varrebbe 3, il coefficiente B varrebbe meno 2, il coefficiente C, che viene chiamato anche termine noto, varrebbe meno 1. E poiché abbiamo detto che solo il termine A, il coefficiente A, deve essere diverso da 0, in realtà il coefficiente B e il coefficiente C potrebbero anche essere pari a 0. Infatti presentiamo in questa schermata i quattro possibili casi in cui trovare un'equazione in secondo grado. Il primo caso, vediamo che c'è solo il termine con la x alla seconda, c'è solo un monomio, infatti si chiama monomia. Nel secondo caso vediamo che manca il coefficiente C, cioè in questo caso il coefficiente C è uguale a 0, quindi scriviamo anche nell'altra situazione che C è uguale a 0 e B è uguale a 0. L'equazione in cui manca il termine C si chiamerà spuria. La terza tipologia è quella in cui viene definita pura un'equazione in cui manca il termine B, perciò scriviamo qua sulla freccia B uguale a 0. Il quarto caso, invece, vediamo che è un'equazione completa perché ci sono tutti e tre i coefficienti numerici, A, B, C, quindi abbiamo sicuramente il termine con la x quadratica, sicuramente il termine con la x lineare e sicuramente il termine noto. Oggi risolveremo delle equazioni in cui questi tre valori numerici, A, B, C, che vengono denominati coefficienti, ponendo che solo il primo bisogna che sia diverso da 0, andremo a risolvere i casi incompleti, cioè i casi in cui almeno uno dei tre coefficienti sia pari a 0. Il caso in cui B e C sono uguali a 0, quindi, ci dà luogo a un'equazione che si chiama monomia e vedremo che le sue soluzioni, ad esempio 3x alla seconda uguale a 0, è uguale a 0, posso dividere per 3, si risolve sempre e solo per l'unico valore nullo. Possiamo prendere un po' di situazioni, come quelle descritte in questi esempi, ma vediamo che tutte queste si risolvono l'unico numero che, moltiplicato per meno 5, mi dia 0, è sempre lo 0. La legge dell'annullamento ci dice che, per ottenere 0, bisogna che uno dei fattori sia uguale a 0 per tutti i casi proposti. E quindi possiamo concludere che l'equazione monomia ha soltanto una soluzione e, precisamente, x uguale a 0. Passiamo ora al secondo caso, cioè un'equazione spuria. L'equazione si dice spuria quando manca il termine C, Perciò abbiamo solo il termine con la x alla seconda e il termine con la x semplice, perciò l'indicazione che si dà sempre è quella di raccogliere il fattore in comune. Quindi, partendo da questo esempio, raccogliamo il termine 3x, che è in comune, perciò dentro la parentesi ci rimarrà la x più 2. Chiudo la parentesi, uguale a 0. A questo punto devo studiare entrambi i fattori. Infatti, per la legge dell'annullamento del prodotto, io otterrò 0 soltanto se, a turno, saranno 0 il primo e il secondo fattore. Quindi, annullo il primo, annullo il secondo, il primo si annulla quando x è uguale a 0, il secondo si annulla quando, lo metto proprio pari a 0, quando x è uguale a meno 2. Ho trovato le due soluzioni, perciò scriverò che le soluzioni sono rappresentate dall'insieme, anzi lo scriviamo così, x uguale a 0 oppure x uguale a meno 2. Ecco quindi quattro esempi. Vediamoli veloci. In ognuno, vediamo che manca il termine c, vediamo che abbiamo sempre la possibilità di raccogliere la x, cosa che infatti facciamo subito. A questo punto abbiamo i due fattori. Il nostro prodotto è uguale a 0 se si annulla il primo fattore oppure se si annulla, ecco che lo scrivo, il secondo fattore. Il secondo fattore va sempre risolto e quindi x uguale a meno un mezzo. Scrivo qua di fianco che la soluzione è rappresentata dalla coppia x uguale a 0 oppure x uguale a meno un mezzo. Per semplicità, anche nel secondo caso, raccolgo soltanto la x, anche se potrei raccogliere 2x, ma questo non cambierà. Raccolgo la x e quindi dentro parentesi mi rimane 4x meno 2 uguale a 0. Come sempre, immaginate di fare le due frecce perché dovete mettere pari a 0 il primo fattore e poi pari a 0 mettete anche il secondo fattore che risolvete. In velocità fate i conti x uguale a un mezzo. Perciò la soluzione di questa seconda equazione è x uguale a 0 oppure x uguale a più un mezzo. Nel terzo caso vediamo che ancora possiamo raccogliere la x e dentro parentesi avremo x meno 1 uguale a 0. Come sempre ponete uguale a 0 il primo e poi il secondo fattore ottenendo che x uguale a 0 per l'appunto quando x uguale a 0 il secondo fattore x meno 1 uguale a 0 quando x uguale a 1 e quindi scriviamo la soluzione. Nel quarto caso vediamo che abbiamo sempre x alla seconda e x e potremmo raccogliere il fattore x ma la cosa che consiglio è quella di fare subito il minimo comune multiplo perché in questo modo la risoluzione sarà molto più veloce e più facile. Quindi mettiamo a posto la parte sopra al numeratore 3x alla seconda più 2x uguale a 0. Per il principio di equivalenza possiamo semplificare il denominatore quindi eccoci arrivati ad avere un'equazione spuria. Raccogliamo la x, dentro parentesi ci rimarrà 3x più 2 uguale a 0 e sempre immaginando le due frecce che ci inducono a studiare entrambi i fattori metteremo che il primo fattore si annulla quando x vale 0 il secondo fattore si annulla quando risolvendo sempre col consueto modo otterremo che x è uguale a meno 2 terzi quindi possiamo cancellare e concentrarci. Guardiamo bene, vediamo che in tutte queste equazioni spurie c'è sempre la solita soluzione quindi possiamo concludere che ogni equazione spuria in cui cioè manca il termine noto sicuramente una delle equazioni è pari a 0. In questo ultimo tipo di equazione incompleta incompleta perché manca il termine bx perché b uguale a 0 l'equazione denominata pura ci presenta due casi e qui chiedo la vostra attenzione infatti vi faccio vedere subito che il caso a e il caso b sono profondamente diversi cominciamo col primo esempio x alla seconda più 4 uguale a 0 ci verrebbe da dire spostiamo, visto che abbiamo solo due termini spostiamo di là il termine noto ma vediamo che abbiamo un quadrato ugualiato ad un numero negativo questo ci fa dire senza ombra di dubbio che l'equazione è impossibile infatti nell'insieme dei numeri reali non ci sono numeri che abbiano il quadrato negativo quindi quando x alla seconda è ugualiato a un numero negativo l'equazione è impossibile nel campo dei reali quindi quando voi avete che la vostra equazione presenta due coefficienti con lo stesso segno come in questo caso più 1 e più 4 l'equazione diventa impossibile guardiamo ora il secondo caso x alla seconda meno 9 uguale a 0 quindi porto di là il termine noto che cambiando di segno diventa uguale a 9 questo sì che è possibile tant'è vero che noi conosciamo due numeri sempre due numeri il numero meno 3 elevato al quadrato da più 9 e il numero più 3 elevato al quadrato da più 9 quindi si dice che x alla seconda uguale a 9 quando x è uguale a più o meno 3 mi raccomando dovete sempre mettere il più e meno davanti al valore che avete ottenuto quindi osservate sempre quando i segni sono concordi l'equazione è impossibile nel campo reale quando invece i segni dentro le nostre equazioni sono discordi cioè sono diversi fra di loro allora sì abbiamo sempre due soluzioni opposte fra di loro vediamo qualche rapido esempio vi presento adesso quattro esempi che hanno segni diversi tra i coefficienti velocemente spostiamo il termine noto e quindi sappiamo che i numeri che elevate al quadrato devono dare 25 sono sempre 2 più e meno 5 nel secondo esempio porto a destra il termine noto stando sempre attenti a cambiare il suo segno che quindi dal negativo spostandosi a destra diventerà positivo la radice quadrata di 1 è 1 col segno più e meno davanti la stessa cosa farò nel terzo esempio sposto il termine noto però a questo punto devo anche dividere per 4 divido per 4 entrambi i termini ottenendo x alla seconda uguale a un quarto nessuna differenza perché tanto la soluzione di x alla seconda uguale a un quarto è uguale a x uguale più o meno sempre due soluzioni quindi un mezzo quindi nell'ultimo esempio separiamo a destra il termine 2 dividiamo tutto per 18 x alla seconda uguale 2 diciottesimi che semplificato mi fa venire x alla seconda uguale un nono e quindi le soluzioni saranno la radice quadrata di un nono col segno più col segno meno e perciò un terzo è il termine il valore assoluto della nostra soluzione possiamo concludere quindi che le equazioni pure purché abbiano i segni discordi fra di loro hanno sempre due soluzioni opposte fra di loro più o meno un valore numerico attenzione adesso ad avere equazioni pure con segni concordi se i segni sono concordi abbiamo detto che spostando il termine diventerebbe negativo e quindi l'equazione diventa impossibile in R anche in questo secondo caso spostando il termine 2 diventerebbe negativo e quindi anche in questo caso concludiamo che è impossibile in R se i segni concordi fossero negativi non ci porta a nessuna diversità perché infatti cambiando i segni moltiplicando per meno possiamo scrivere i positivi e quindi ritorneremo ad avere l'uguaglianza tra il quadrato di x uguale a un numero negativo anche in questo caso impossibile in R perciò concludendo che l'equazione pura in cui i segni dei suoi parametri e dei suoi coefficienti sono uguali non ammette nessuna soluzione abbiamo concluso le nostre tre situazioni la formula per risolvere un'equazione completa la vedrete nel video successivo a questo in pochi secondi vi faccio il riepilogo se volete poi fotografare questa schermata per averla come riferimento potete farlo e studiarci sopra e crearvi la vostra mappa concettuale l'equazione di secondo grado ha tre termini in via generale e ad essa dell'uguale deve avere zero ricordiamoci che il coefficiente a deve sempre essere diverso da zero mentre invece questo non è obbligatorio per i coefficienti b e c che quindi o da soli o in coppia potranno essere anche uguali a zero quindi scriviamo come l'equazione e scriviamo anche il suo nome l'equazione monomia poi c'è l'equazione spuria che è quella in cui manca il termine c mentre l'equazione in cui manca il termine b verrà chiamata pura parliamo ora delle soluzioni l'equazione monomia ha sempre e solo un'unica soluzione uguale a zero invece l'equazione spuria avendo due soluzioni diverse ne ha sempre una uguale a zero e l'altra prenderà valore che dipende dal valore di a e di b precisamente spostando ci verrà che x è sempre uguale all'opposto di b diviso a nel terzo caso invece nell'equazione pura sappiamo che abbiamo che x assumerà sempre due valori opposti fra di loro spostando la c dall'altro lato diventerà meno c diviso per a questa è la formula per trovare a memoria le due soluzioni ma voi col metodo visto prima lo fate anche senza imparare a memoria a questo punto perché il video è finito vi saluto e ci diamo appuntamento alla prossima lezione e la prossima lezione Grazie a tutti